Incassata la fiducia pubblica di Pulvirenti che ne ha lodato ancora una volta il lavoro, De Canio studia le mosse per cominciare sabato sera alle 20.45 col Verona a far correre il suo Catania e a far vedere il suo Catania. Pulvirenti l'ha detto, difficile dare un giudizio definitivo sul tecnico, troppi infortuni. Qualcuno però comincia a tornare, gli squalificati in primo luogo, ma anche chi ha un peso specifico in questo Catania. Izco, caratteristiche uniche nel centrocampo etneo e Bergessio, la cui importanza nella squadra rossa-azzurra è stata paragonata da Pulvirenti a quella di Totti per la Roma. Anche oggi per loro test in gruppo, ritorni dunque più vicino quello di Izco, la presenza col Verona dipenderà comunque dalle sue sensazioni, ma già esserci in allenamento e eventualmente nelle convocazioni può valere molto per fare sentire il peso dell'esperienza. Ritornano le figure cardine, torna a riaffacciarsi il 4-3-3, lo schema che è da quasi un decennio nel DNA del Catania come ribadito dallo stesso presidente nell'ultima conferenza stampa. Il tecnico continua a provare anche altri schemi come il 3-5-2 durante gli allenamenti, ma per il match col Verona potrebbe avere pochi dubbi. Capuano più di Alvarez, su cui pesi il mancato rinnovo contrattuale a sinistra, Taxidis di nuovo in mezzo, Barientos a Darmanforte insieme a Castro all'attaccante centrale che con ogni probabilità sarà nuovamente Leto e non Maxi Lopez. Ancora out, Bellucci e Almiron, insomma De Canio spera di dar spazio al nuovo Catania che poi è più simile a quello vecchio, a quello vero. Al Massimino contro gli Scaligeri, Sesti in classifica con 25 punti, arbitrerà D'Amato di Barletta.